www.feyyaz.tv saltavamo sopra come gli indiari è vero si era chi ci metteva il volante chi si attaccava agli sportelli chi ci metteva le ruote, chi ci metteva i sedili le luci le luci si e io mi mettevo la maschera sembravo un mostro ma che paura tutto girava, girava, girava come si chiamava? la giost la giost la grande giost se si entra cosa rischiamo? è scasso violazione di domicilio va prurata allarme sentite che pelle liscia la 131 le più belle macchine che abbiamo fatto tu non sai cosa vuol dire stare 9 ore davanti a un computer non sai cosa vuol dire? 9 ore in piedi alla catena di montaggio 200 mail al giorno 100 pezzi così allora io sono sempre sotto pressione guarda che tutto questo l'ho fatto per te e per la famiglia sono col caso che me ne stavo 40 anni puntare chiuso lì in fabbrica ma quale lotta franco ma poi contro chi? siamo fuori mercato ragazzi abbiamo fatto la scoperta del secolo le vogliamo rimettere a posto? te si facciamole come nuove tu che c'è? è venuto il momento delle carte bollate denunciamoli bambini venite qua ti devo identificare e faccio rapporto al magistrato ma perché? no 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 ragazzi vediamo devo dare una cattiva notizia quel cretino si è fatto rubare la macchina ma tu perché gli hai dato la chiave? grazie Grazie a tutti Grazie a tutti